Entra nel vivo il piano di ripristino e rinnovo delle telecamere a Varese, oggi c'è un'area importante che finalmente torna tra virgolette alla luce ed è quella dell'area stazioni, sono in corso in questo momento le installazioni di nuove telecamere, di che cosa si tratta? Sì, stiamo ripristinando alcune telecamere che già c'erano ma non funzionavano o comunque erano ormai obsolete e quindi tutta l'area qua stazioni davanti alle poste, quindi sono aree molto sensibili e anche la piazza 20 Settembre, per andare verso il centro, sono atto di sistemazioni in questi giorni e poi sono altre sempre nella zona del centro.